Ciao, a 90 anni l'artista Iris Apfel è stata scelta come testimonial dall'azienda cosmetica MAC che l'ha immortalata a contatto di occhi mistrati di verde, unghie e labbra rosso fuoco. Una vera icona di stile, proprio come Carmen dell'Orefice che a 80 anni si vanta di fare ancora la modella conquistando l'onore della copertina di amica. Non c'è che dire, è in atto una vera e propria rivolta degli anziani e parafrasando il titolo di un film anche che l'Italia è ormai un paese per vecchi, a giudicare dalla classe politica e imprenditoriale del nostro paese e dal fatto che si va in pensione sempre più tardi. Per non parlare del mondo della moda, dove i giovani fanno una gran fatica a conquistare un ruolo da protagonisti e il mercato del lavoro è sempre più duro. E se fino a ieri le modelle erano ragazzine quindicenni, queste scelte rivelano una vera e propria inversione di tendenza, anticonformismo, oppressione di una lobby che non ha alcuna voglia di farsi da parte e cedere le armi. Di fatto per i giovani è particolarmente duro in questo momento trovare uno spazio, anche se siamo convinti che chi ha le qualità per emergere ce la farà. A Soda Caustica lo spazio futuro giovane è un piccolo contributo per aiutare chi vuole e ha le qualità per emergere, anche se chi vi parla è una pensionata che ha ancora voglia di dire la sua. E voi che ne pensate?